Bianconeri, sulle scelte, amore di Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con lo Juventus Official Fan Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Milan, quarta giornata di campionato, domenica 19 settembre, ore 20.45. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Ci trovi a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti Antonio 348 80 8 8 8 03 Cristian 349 68 000 66 E grida con noi Forza Juve, fino alla fine!